Ragazzi così è NATALLE! Ma no!! Il máximo un Pasqua... Sì, molto! E così? A me non sembra.. No... Già da più però a meno! Io so come è Natale Plano. Il Natale è così! ぎん you buyers! è una cosa bello, gingola bello, gingola tutta la via è la segnalata va è pazzesco e quindi e quindi buon Natale a te buon Natale a te buon Natale a tutti buon Natale buon Natale è un compleanno molto particolare ma è un compleanno, ciao ciao